Assori per OssiTest è un kit completo per l'analisi qualitativo e rapido di peroxidasa senza lecce, secondo il metodo Rottenfusser. Aggiungere 3 ml di acqua restilata in una delle botelliche che contiene il reattivo A e agite in Lavien. Aggiungere 3 ml di acqua restilata in una delle botelliche che contiene il reattivo A. Aggiungere 5 ml di acqua restilata in una delle botelliche che contiene il reattivo A. Aggiungere 5 gote del reattivo A e 3 gote del reattivo B. Grazie Interpretación de los resultados Si il color del contenuto se vuole violenta, significa che la muestra analizzata contiene peroxidasa. Interpretación de los resultados